E' stata presentata nella Sala Giunta del Comune con gli assessori alle pari opportunità e alle politiche sociali Francesca Menna e Monica Bonanno l'iniziativa Il Cappotto per i senza dimora. E' un progetto dell'associazione Insiet che attraverso la campagna di sensibilizzazione al riciclo della plastica Prendi3 ha realizzato appendi abiti ecologici per dare la possibilità ai cittadini di donare indumenti a chi ha più bisogno o non ha una casa. Questa iniziativa vuole unire il sociale all'ambiente proprio per dare un messaggio che le cose si possono fare insieme e tant'è che oggi c'è una sinergia di diverse realtà a Napoli tra il Comune, la comunità di Sant'Egidio che già fa tantissimo per questa città e noi come associazione ambientalista che siamo i promotori di questo gioco Prendi3 dove invitiamo le persone a raccogliere tre pezzi di plastica quotidianamente per invertire il comportamento e invece di gettare il rifiuto di raccogliere. Il rifiuto infatti può essere una risorsa come appunto Giancarlo ha realizzato questo bellissimo attaccapanni. I primi attaccapanni saranno gestiti dalla comunità di Sant'Egidio presso la quale è possibile recarsi per lasciare vestiti e coperte. In città saranno sistemati alcuni nella comunità di Sant'Egidio che è il primo obiettivo postoci. L'idea nasce dalla nostra associazione spinta da Dario e l'oggetto nasce da materiale riciclato. Praticamente non c'è niente di nuovo se non le viti di fissaggio, dopodiché è tutto materiale riciclato. È un'iniziativa che nasce dall'idea di cittadini che sono venuti in assessorato per fare in modo che ci sia uno scambio tra le persone e le persone meno abbienti o senza fissa dimora. Sarà un attaccapanni itinerante dove si possono lasciare cappotti o abiti in condizioni chiaramente ottimi di uso e le persone che hanno difficoltà economiche potranno prenderle oppure le persone senza fissa dimora. E la cosa bella e importante è che saranno anche le persone che prendono il cappotto a lasciare un dono perché lasceranno un pensiero, una frase, una poesia, qualcosa che faccia bene anche a chi ha dato il cappotto.